In acqua la seconda serie 200 misti assolute dalla 1 alla 7, tra di sito Comi, Seller, Corradi, Viagioni, Milkucic, Speri. Alla partenza la prima serie in corsia 2 Arianna Rado, Idros, alla 3 Laura Manzotta, Idros, alla 4 la vice campionessa italiana di categoria cadetti in questa distanza Giulia Rebusco, Aquatic Center Montichiari, alla 5 Ilaria Ripamonti, Team Trezzo Sport, alla 6 Leonora Veghi, Cloromania, alla 7 Martina Pinarello, Idros, alla 8 Desiree La Rotonda, Campus Team Bavia, record assoluto della manifestazione, sempre di Giulia Rebusco, 2.1794 della scorsa edizione. Ricordiamo per premiazioni 200 misti ragazze in zona podio, Alice Oberti, Aurora Treccani, Aurora Bertoletti, Nicole Buona, Beatrice Buona. Gorghi e Giulia Rosa. Seconda serie all'arrivo in corsia 1 Chiara Maria Pradisotto, Nota Club Milano, se la giudica con l'ufficioso di 2.26.38 su Elisa Corradi 2.29.10. Alla partenza, la prima serie.